pasticceria è una parola che mi rispecchia molto perché comunque è una cosa che in un futuro dopo il calcio vorrei tanto fare e sono molto brava a fare la cheesecake ginocchio è l'incubo secondo me dei giocatori sono cresciuta tanto anche per il ginocchio perché comunque l'ho rotto però ti fa anche crescere mentalmente ogni persona secondo me c'è un numero fortunato come per me il 92 perché è un insieme di numeri fortunati che ho avuto nella mia storia calcistica iniziato calcisticamente il 9 ed è sempre stato comunque il numero da bomber anche il 20 mi ha sempre portato fortuna in nazionale e il 29 è la mia data di nascita però tutto il complesso mi ha sempre piaciuto e ho girato con il 92 calciatore uno dei lavori più belli in assoluto secondo me c'è uno di quei lavori che sei contento di fare di cui non ti stanchi mai azzurra secondo me è napoli napoli è una città calorosa e l'azzurro è comunque uno di quei colori che ti trasmette felicità e quindi napoli è felicità ed è azzurra